E sono tre. Il Crema 1908 sorprende anche la Folgore Caratese, altra bestia da playoff come l'Arconatese e completa così la sua settimana perfetta, tre partite e nove punti in sette giorni. Ci prova prima Poledri calciando troppo alto, dopodiché il 10 sempre da sinistra serve dentro Ferretti che colpisce Sbilenco e manca una buona opportunità. Il Crema c'è e insiste, cross di Ferretti sporcato, rovesciato in bello stile di bigotto e palla tra le braccia del portiere. Ferretti sembra non essere in giornata quando cicca il pallone che Mandelli gli serve al limite dell'area. Sempre e solo Crema, questa volta da fermo, con la mischia che viene risolta sulla linea di porta da Gigli. La volè di Ferretti dal cuore dell'area non trova la porta ma conferma la sensazione di una squadra di casa padrona del campo anche se il gol tarda ad arrivare. Lo fa in avvio di ripresa. Prima Mandelli impegna a terra il portiere ospite, poi trova la testa di Ferretti sul secondo pallo da fermo col bomber che apre finalmente le danze 1-0 per il Crema. È il momento di colpire, la squadra di Bellinzaghi non se lo fa dire due volte. Cerri, dopo aver deciso il match di Busto Garolfo, crossa al centro da destra trovando la deviazione di Esposito che batte il suo portiere Merelli per il 2-0. Pure chiusa la gara resta bellissima e c'è spazio anche per una prudezza di Ziglioli che evita guai. Non però la sofferenza finale perché Mandelli manca il 3-0 solo davanti alla porta mentre Alma dall'altra parte in diagonale riapre tutto battendo stavolta Ziglioli dalla destra. Sull'ultima palla del match Cerasani e Ferretti non riescono a servire il Tris ma il triplice fischio stavolta è quello che più conta e la sofferenza verrà comunque utile per il futuro. Secondo me stiamo crescendo individualmente stiamo crescendo, secondo me questa dislocazione sul campo ci consente di essere più aggressivi e meno protettivi quindi facciamo una fase di non possesso più attiva e più aggressiva nella quale crediamo e nella quale stiamo cominciando ad essere veramente efficaci perché sono tanti i palloni che recuperiamo o tanti palloni che comunque sporchiamo e consentiamo poi ai nostri difensori di vincere i duelli sulla base del fatto che siamo andati alti a pressare. A questo aggiungo che un'altra cosa positiva è che quando la prendiamo siamo abbastanza lucidi nel rigiocare e quindi non abbiamo fretta nel verticalizzare quando non si deve ma facciamo scelte spesso giuste e quindi poi arrivano le prestazioni in termini di occasioni prodotte, in termini di godibilità della partita e in termini anche di poche occasioni concesse. Subito il 2 a 1 secondo me non abbiamo concesso praticamente niente, è chiaro che sei in fondo alla partita che è la sesta consecutiva mercoledì domenica, mercoledì domenica, mercoledì domenica quindi con un po' di fatica nelle gambe ma con la testa molto presente e quindi laddove non arrivavano le energie fisiche arrivavano le energie mentali. Siamo a terza vittoria in questo girole di ritorno!